Mancata nomina del garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale Roberto Falotico che ha presentato un'interrogazione al presidente dell'Aggiunta regionale De Filippo e all'assessore alla sicurezza sociale Martorano. Falotico chiede le motivazioni della mancata nomina e tempi certi per questo adempimento. Il garante, figura prevista da una legge regionale, ha il compito di assicurare l'attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei bambini, favorendo lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità e affermando le loro pari opportunità. Il consiglio regionale, ha ricordato Falotico, avrebbe dovuto fare la nomina a febbraio 2010, ma nonostante la commissione competente abbia già esaminato le candidature, la nomina non è stata fatta. Per Falotico si tratta di un incarico di forte responsabilità di cui c'è bisogno e senza il quale la norma regionale è di fatto inefficace, oltre a essere un grave segnale di sottovalutazione di tematiche di grande rilevanza civile.